Allora Alessandro Paparoni 3-0, Treia su Molfetto, una partita da non sottovalutare, non lo avete fatto, tre punti importanti in vetta momentaneamente alla classifica di Superliga ad una giornata dal termine della regular season e che ultima giornata? Sì assolutamente, ci sarà da divertirsi, speriamo di approcciarla bene anche la prossima a Modena in un campo difficilissimo però se dimostriamo di mettercela tutta come abbiamo fatto oggi abbiamo sicuramente buone possibilità di far bene anche lì. Alta concentrazione oggi Ricardinio in campo, che treia è stata? Sì dobbiamo cercare di farlo entrare buone i nostri meccanismi, non è da tanto che è arrivato quindi non è semplice però penso che stiamo mettendocela tutta, stiamo cercando di dargli una mano, poi lui insomma non è, non devo essere io a spiegare insomma tutto quello che ha vinto e ha fatto, è bravissimo e quindi ci mette sempre il suo e così è tutto più facile, oggi è andata bene e speriamo di continuare così. I playoff come si suol dire sono un altro campionato, concentrazione, tensione al massimo un obiettivo importante da raggiungere per voi? Sì noi dobbiamo continuare così come oggi, come ultimamente stiamo giocando bene in campionato, dobbiamo continuare su questa strada qui, anche la prossima partita che è l'ultima, non dobbiamo pensare ai playoff adesso ma concentrarci sulla prossima partita, partita per partita, poi speriamo anche di crescere, di riuscire a provare anche altre soluzioni perché oggi ne abbiamo provata una ma probabilmente ne proveremo anche un'altra per il fatto degli stranieri con l'arrivo di Riccardo, quindi dobbiamo cercare di dare massima disponibilità a noi e cercare di dare sempre il meglio e fare il massimo insomma, poi speriamo che, anzi sono sicuro che andrà bene. Il tuo impiego in campo in questa fase calda di campionato, che campionato è per te? È un campionato inaspettato perché dopo la scorsa stagione ho fatto molta fatica con un problema importante alla schiena, quest'anno dopo il lavoro che ho fatto quest'estate anche negli Stati Uniti sembra che mi abbia aiutato, quindi sto andando meglio, riesco ad allenarmi sempre, sto riuscendo anche a dare una mano, quindi per me è il massimo. Palacinità nuova, bel palazzetto, bel pubblico, un bell'ambiente questo? Sì sicuramente, poi noi siamo stati anche bravi a invogliarli perché abbiamo praticamente sempre vinto esclusa la partita di Champions, quindi speriamo di continuare così perché insieme noi con il pubblico potremo fare sicuramente delle belle cose. Grazie 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 Grazie